Dal 4 di novembre vi aspetto sulla sezione video del sito Il Giorno dell'Alto Adige con la rubrica A tu per tu. Una bellissima rubrica dove andrò a intervistare i personaggi noti di Bolzano e dell'Alto Adige per sapere un po' di più di loro, diciamolo chiaramente, per farci un buon quarto d'ora di fattacci loro. Saranno delle interviste molto carine, molto simpatiche, quindi vi aspetto dal 4 di novembre ogni settimana su Il Giorno dell'Alto Adige.